Il fenomeno Angelina Mango continua a conquistare il cuore del pubblico, ma dietro il suo straordinario successo si cela una vicenda che ha recentemente preoccupato i fan più affezionati. Prima di addentrarci nell'argomento del giorno, vi chiediamo un piccolo favore. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. È un gesto semplice, ma per noi ha un valore immenso. Sempre attenti ai dettagli, hanno notato un cambiamento inquietante sui social. Angelina è apparsa visibilmente stanca e dimagrita, sollevando una vera e propria ondata di apprensione. In particolare, un video ha scatenato discussioni accese, con molti fan che si sono chiesti cosa stesse succedendo. I commenti non sono tardati ad arrivare, non l'avevo riconosciuta, e, sembra sempre più magra, sono solo alcuni dei messaggi che hanno espresso il crescente disagio. Il legame speciale tra la cantante e il suo pubblico si è così trasformato in una preoccupazione condivisa, con dubbi sempre più insistenti sulla sua salute. Poi è giunta la notizia ufficiale. Angelina Mango è stata costretta a sospendere il suo tanto atteso tour a causa di una rinofaringite acuta. Una decisione difficile, come ha spiegato lei stessa sui social, ma indispensabile per tutelare la sua salute. Il concerto previsto per la fine di ottobre è stato posticipato, ma Angelina ha rassicurato i fan promettendo di tornare presto, più forte di prima, torno a casa, recupero la mia voce e tra pochi giorni saremo di nuovo sul palco, ha dichiarato, dimostrando ancora una volta il suo profondo rispetto e affetto per il suo pubblico. Ora, tutti attendono con trepidazione il suo ritorno sulle scene. Lasciate un messaggio nei commenti per supportarla e non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati.